Per la lavorazione di diversi materiali, sono disponibili i portadischi con diversi anelli e portablocchetti. In questo capitolo mostriamo come inserire e gestire il materiale. Inserimento del portamateriale. Inserire il disco nel portadisco e fissarlo con l'anello esterno. Prestare attenzione a posizionare i dischi in modo tale che l'etichetta RFID si trovi al centro dell'apposito spazio del portadisco. Per l'ossido di zirconi e la cera, utilizzare il cacciavite dinamometrico da 0,45 N. Per altri materiali come il PMMS, cromo cobalto e titanio, utilizzare il cacciavite dinamometrico da 2,8 N. Avvitare le viti sempre in modo incrociato per non danneggiare i dischi. RFID Il lettore RFID della fresatrice non può leggere le etichette del cromo cobalto e del titanio. Per la lavorazione di questi materiali è necessario leggere l'etichetta RFID della confezione attraverso il software Programmeel Cam. Quindi codificare corrispondentemente il contenitore RFID compreso nella dotazione dell'apparecchio. Applicare il contenitore RFID sul portadisco. Inserire il disco di materiale nel portadisco. Fissare la vite con l'anello esterno. Utilizzare il cacciavite dinamometrico da 2,8 N e avvitare le viti in modo incrociato. Digital denture Inserire il disco di materiale nel portadisco. Prestare attenzione a posizionare il disco in modo tale che l'etichetta RFID si trovi al centro dell'apposito spazio del portadisco. Inserire l'anello 1 Utilizzare il cacciavite dinamometrico da 2,8 N e avvitare le viti in modo incrociato. Effettuare il primo processo di fresatura. Ora prelevare il disco. Inserire nuovamente il disco per il secondo processo di fresatura e fissarlo come descritto, con l'anello 2. IPS e Matrix Sui singoli blocchetti non ci sono etichette RFID. Non è pertanto possibile rilevare informazioni sui blocchetti tramite il lettore RFID. Per la lavorazione dei blocchetti è necessario leggere l'etichetta RFID della confezione attraverso il software Programmi il CAM, quindi codificare corrispondentemente il contenitore RFID compreso nella dotazione dell'apparecchio. Inserire i blocchetti nel portablocchetti. Fissare i blocchetti con una chiave a brugola delle dimensioni di 2,5 mm.